beh ho sentito un minuto Marcel di questo audio ed è spettacolare perché praticamente come quelli che dicono guarda io sono no vax e la risposta che sento è allora sei un terrapiattista io non trovo niente contro i terrapiattisti non ho approfondito però è la velocità di creare l'equazione che non ti permette manco di finire le frasi il che è tenendo presente che io ti conosco e so perfettamente le parole trigger e la risposta che tu darai dopo ogni parola trigger cioè è come se tu c'hai 22 numeri ogni volta che tu dici il 3 la risposta è prevista quindi devi fare slalom soltanto che per costruire un discorso spontaneo purtroppo si tocca è come campo minato tu quando tocchi una determinata parola la risposta sai che è quella e sono risposte di una superficialità brutale soprattutto se non finiscono di elaborare il discorso cioè le frasi periodi capitoletti vanno ascoltati e internet la tecnologia ha creato questo ha creato questo siamo diventati tutti dei piccoli gebel che creano delle proprie propagande fondate su 10-15 parole alla Diego Fusaro discorsi automatici che sgrillettano là tu dici ma Amerigo sapendo che io sono un coglione per quale motivo continui allora a mandarmi lì audio ma te li mando te l'ho detto perché prima di tutto un pensiero di questo genere è sempre una difesa cioè è ipocrisia quindi è chiaro che fino alla fine fino alla fine così come i ricchi capiranno che gli verrà tolto tutto ai ricchi anche tu prima o poi se arriveremo a quel giorno capirai che le persone le si capisce ascoltando un po' più apertamente se poi c'è paura di ascoltare un attimo vabbè andrà via comunque dici ma perché ti scrive ma anche per tenere una relazione per per varie cose perché pensavo di dare un contributo a quella vicenda che si era aperta tra l'altro pensavo di dare un contributo a tuo favore però a quanto pare le trigger world hanno agito più velocemente sul tuo cervello quindi purtroppo sei sei preda di questi di questi cortocircuiti che hanno creato nella tua test che in cambio di farti sentire un attimino un professore che ha sempre la risposta pronta ahimè agisci come un un automa devi scegliere se vuoi agire come un automa e sentirti professore perché hai sempre la cosa da dire ma in realtà dici sempre le 10-15 cose oppure cominciare a dilatare questo discorso e ascoltare frasi periodi 4-5 cose poi vedi tu che cazzo fa finire di mangiare caro giovanni io non riesco a parlare in modo costruttivo se la mia mente pensa solo a quello che sto dicendo perché è così demenziale è così demenziale a che cazzo ci siamo ridotti come persone che la mia mente deve stare impegnata a fare qualcos'altro non è che non ho tempo per rispondere io ho 14 ore in cui ti avrei potuto rispondere senza mangiare ma era molto più facile rispondere mangiando perché almeno la mia mente rimaneva occupata e non vedeva la totale demenzialità del fatto di scrivere e parlare e condividere con te questi pensieri però se sei un coglione che cazzo vuoi su affari tuoi allora io sono costretto a fare se registrazioni di continuo ho paura che abbia proprio tagliato quando io specifico che cosa è animale terribile pare di stare alla RAI a me sta cosa mi eccita mi piace un sacco questa sfida perché ho la possibilità di capire che cazzo è la tecnologia delle persone meschine in maniera edul colorata e tamponata da questo individuo che si chiama Marcel Minga che continuo a reputare mio amico e sostengo che lo sia e quindi però però è purtroppo tarato e dentro di sé è tarato si spera che supererà queste tare e lui non ha idea di cosa mi riferisco non lo sa ma è fantastico questo lui praticamente ha tagliato cioè il sospetto che abbia tagliato cioè non mi ha fatto completare un periodo i miei periodi durano cinque minuti te li devi sentire fino alla fine per vedere che cosa sto facendo e cosa sto dicendo questo taglia tutto e ho paura che abbia completamente eliminato quel pezzo andiamo a vedere purtroppo bisogna procedere con la stessa violenza con cui procede Marcel nel giudicare cioè non completare non stare a sentire il prossimo attaccarsi prendersi a pesce in faccia come quella scena del film di quello là come cazzo si chiama che è praticamente il talk show televisivo a zuffarsi bisogna purtroppo procedere così perché se uno procede così e l'altro subisce sa piglio in del culo quello che subisce sarei io quindi mi sono costretto a interrompere ancora l'audio perché dice praticamente senza aver completato la sua discussione perché dice praticamente che aspetta che è è livello animale che significa allora prima di tutto lui ha detto che per lui e lui è diverso da me perché lui legge la Bibbia probabilmente la prima volta in cui ha letto la Bibbia io tre o quattro volte mi sono trovato a chiacchierare della Bibbia con Marcel e lui mi ha tirato fuori sempre dei dubbi non sapeva pezzi del Vangelo non so se l'ha cancellato il video in cui non sapeva pezzi del Vangelo quindi non so quante ore dedica la giornata alla lettura del Vangelo e la lettura della Bibbia io dedicai l'anno scorso circa due mesi insomma diverse ore al giorno e poi poco più di quello però che dicevo ah dice praticamente che prima di tutto lui Marcel era vegano e adesso dice che i vegani erano praticamente una setta e che non bisogna essere vegani e che si mangerebbe di tutto e poi sostiene in questo audio dice praticamente che io affirmando che noi siamo animali dico che se io ho fame devo staccare il braccio da John no se io ho fame posso tranquillamente andare a mangiare una mela e se io ho fame posso tranquillamente eventualmente se non ho null'altro tirare una botta in testa a uno scogliatolo che sta per morire se proprio mi trovo che non ho niente da mangiare cosa che lui stesso mi ha confermato a parole ho sentito un video in cui ha fatto vedere nello shelter che avrebbe appeso gli animali lì quindi che cazzo stai dicendo Marzè cosa cazzo stai dicendo ma è propaganda quella che fai oppure cioè tu ci credi oppure hai solo paura se hai paura cazzo ammettilo non di me non stoppare cazzo qua hai paura di lasciare la presa del gebelismo vabbè scemananzi tanto qua siamo al tafferuglio a talk show dunque dopo praticamente dieci minuti comincio a perdere la speranza che lui abbia capito in qualche misura cosa io intendo con animale ogni volta che lo dico non so se ha tagliato dei pezzi ma dicevo che animale non è altro che l'animale che sa meditare che guarda l'infinito o guarda la pietra che ha sotto il culo e sta pacifica e calma io vedo un ordine in questo non mi sembra lui proprio continui a ripeterti fare vivere in comunismo cioè poi sembra andare in un discorso totalmente diverso ripeto sono costretto a interrompere stile talk show cazzo dopo dopo che ripete le solite sono discorsi ripetuti ripetuti come la propaganda è veramente un comunista cioè ha praticamente appreso gli strumenti della propaganda che ripete una qualsiasi stronzata un numero sufficiente di volte affinché entra poi nel cervello delle persone cazzo stavo iniziando un discorso intelligente iniziando non è che l'avevo concluso è come l'aereo che sta iniziando a partire cioè sta iniziando a partire solo il pilota sa che arriverà gli altri guardano là fuori e dicono cazzo stiamo ancora a Roma e questo ci dice che arriveremo a New York ma il pilota lo sa i miei discorsi come discorsi umani sono così li devi aspettare che decolli e adesso mi trovo praticamente neanche stavo decollando nel mio discorso ha attaccato un pippone con le solite cazzo di discorsi che sono sempre gli stessi cioè è rischiosissimo tu ti stai a sentire questa persona e ti ripete praticamente tu dici ciao come stai allora il cortamento incumulo porca troia ma come cazzo si fa finisci il discorso appiattisci l'altro vabbè mi sono arrivato a questo punto mi sono dimenticato quello che stava dicendo l'amerigo nell'audio terribile è fantastico allo stesso tempo perché ti toglie tutte le speranze di comunicazione cioè la sua coglionaggine è salvifica perché è un coglione che tu sai se lo conosci che fa il coglione cazzo dietro uno schermo cioè dietro allo schermo perché poi di faccia è la persona più tenera e tranquilla che ci sia e quindi ti toglie tutte le fiducia la fiducia che c'è nel mozio di comunicazione perché se sono stati in grado di trasformare una persona così tranquilla nel suo posto in Dr. Jekyll e Mr. Hyde proprio scissione allora capisci che sono proprio questi strumenti che generano queste cose io le so le so le so io facevi video prima di Marcello e lui lo sa grazie a lui e ad altri che erano venuti prima ma lui adesso stiamo facendo una cura lo dovremmo ringraziare vediamo vediamo se si riprende dai il discorso e si finisce poi nella trappola ma continua a ripetere il due cosa che è ovvio le ho detto 350.000 volte ma è penoso anche è ovvio che l'ho detto ma non si arriva a niente capito perché purtroppo è così bisogna proprio rinunciare ed è un vero peccato perché è come subire un tradimento il tradimento di non poter proprio comunicare il what the wilt è loro è ovvio ecco che cosa volevo dire ma glielo ho già detto miliardi di volte andiamo avanti vediamo se ha la cortezza di sentire dieci secondi consecutivi e di riprendere dalla frasetta prima boh non so è la cosa che dice boh lo faccio per la libertà a me fallo come cazzo ti pare il problema è che boh fallo 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 creperanno tutti purtroppo creperanno tutti non si può costruire niente l'uomo è una merda è fatta per per creare guerra c'ha un ego costruito sulla paglia andiamo avanti io sono contento e non conclude le frasi ho detto satanismo per rilassarmi perché ho sbagliato però avevo calcolato che avevo già detto 3-4 trigger word quando tu parli con l'intelligenza artificiale io ce l'ho c'ho wind c'è will se tu a willy dici senti io ho acquistato una sim nuova e non so se il contratto è ancora intestato a giovanni scarcioppola che ha una buona e quello dice hai una sim nuova vuoi una sim nuova e parte col primo discorso cancellando tutto quello che c'è dopo quindi l'unico modo di comunicare con l'intelligenza artificiale è come se sei davanti a un lucchetto e devi provare diverse chiavi finché non metti quella giusta è chiaro che questo non ha niente di umano perché quando parli con un essere umano la caratteristica è proprio quella che la mente deve poter tradurre quello che vive dentro cioè quello che Amerigo vive dentro nelle sue 24 ore in un linguaggio che chi ho di fronte può capire lui è la il come si chiama il il lucchetto è chiaro che devo provare varie chiavi ma se lui sta lì attento che ogni tentativo toglie ci si rassegna dice vabbè allora non si può comunicare con gli altri bisogna avere le frasi pronte ecco perché continuo a insistere con Marcel perché tu dici beh qualcosa l'avrà sentita e lo conosco quindi magari poi fino alla fine uno diventa veloce nel creare queste frasi ad effetto ed entrare nelle serrature ma a tradurre quello che sente invece purtroppo purtroppo non è così assolutamente non è assolutamente così satanismo per rilassarmi lui dice abbiamo nature diverse cioè se tu senti sta frase io ho detto il sistema ci dà dei surrogati il satanismo per rilassarci lui taglia lì e inizia a dire abbiamo dei sistemi diversi ma cazzo non è quello che volevo dire avevo iniziato un discorso cazzo ho sbagliato in quella particolare cosa perché stavo per dire dopo sicuramente dopo ho sbagliato a dire dovevo dire il satanismo per scaricare la rabbia infatti la musica metal i testi delle musiche metal il satanismo che deriva da quel tipo di persone non è stato dato agli individui per farli sentire che sono liberi non viene dato ai teenager con l'idea che se si mettono la croce rovesciata si stanno sfogando invece sì per rilassare per sfogarsi per rilassare ha dato lo yoga mi sembrano cose di una demenzialità e banalità assurde abbiamo naturi diverse interrompe la frase e guarda è meraviglioso è fantastico è fantastico cazzo ma chi te lo dà un corso di questo tipo bello andiamo avanti vediamo se riusciamo in questa epopea fantastico la sua frase conclude io per rilassarmi mi faccio un bagno caldo che è un'esperienza talmente comune demenziale demenziale dirlo lo fanno vedere anche nei film l'acqua calda è chiaro tu invece per rilassarti devi pensare di staccare un braccio a un bambino cioè è fantastico io praticamente secondo questa frase se sono teso dico sai che adesso vado a staccare un braccio a un bambino è meraviglioso io spero che alla fine poi cada il velo del questo velo che bellismo chissà quando gliel'hanno messo l'hanno messo a tutti questo è uno degli esemplari più intelligenti che non lo girano da adesso attenzione stiamo parlando di veri e propri professori quindi immaginiamoci la persona in mezzo alla strada che cazzo c'ha che tritatura di paglia che ha nella testa dobbiamo entrare fino a quel po' vediamo un po' ci sono praticamente dei libri che furono scritti adesso non ricordo l'anno preciso però fu il momento in cui fu creata la programmazione neurolinguistica da Bundler e Grinder loro studiarono il lavoro di questo individuo geniale che si chiamava Milton Erickson lui era un ipnotista però quelli che resero popolari le sue dorrie e soprattutto nell'ultima generazione fu uno Milton Erickson e Grinder che era la programmazione neurolinguistica questi individui praticamente prendevano i discorsi che faceva Erickson e li tagliavano per commentarli con una meticolosità totale proprio ad ogni parola cercavano di capire che cosa stesse facendo in realtà Erickson come se si trattasse di programmazione infatti si chiama programmazione neurolinguistica cioè creare dei discorsi che in qualche maniera hanno una finalità specifica quella di Erickson era curare per esempio uno si pisciava di continuo addosso andava da Erickson Erickson gli raccontava una storia e quello lì non era più incontinente una specie di magia perché il linguaggio è appunto programmazione di programmazione praticamente adesso io ho detto una frase ho detto il sistema ha dato lo yoga all'individuo perché anche un computer ha bisogno del sistema di raffreddamento così può operare meglio allo schiavo dico io e lui interrompe e dice ah sì una delle caratteristiche del sistema è praticamente che ripete la stessa identica cosa che ho fatto io e aggiunge e no perché anche non c'è bene non c'è male cioè calcolando che poi le fonti c'è questo sito che è il sito di San Giorgio sono le stesse cioè da dove io vado a trovare alcune fonti sono le stesse che a lui soltanto che appunto come ricuce dice la stessa cosa e poi dice ah guarda che non è quello che dici tu cioè è proprio il bisogno di andare a dire tac la son meglio io e ti ripeto la stessa cosa speriamo di finire questo parto dai questo parto si fa per dire questa patema lui dice se uno non c'è un cazzo da fare invece di zappare la terra fa l'eremita allora va bene va bene dice se uno non c'è un cazzo da fare fa l'eremita praticamente i discorsi presi sempre con le paroline perché se tu praticamente stai nel deserto mi devi spiegare come fai a zappare io ho fatto ho detto la dimensione simbolica del deserto questa parola simbolica è chiaramente una trigger word per l'intelligenza artificiale chiamata Marcel Ming perché quando dici simbolico immediatamente gli parte il link con tutto quello che gli hanno messo in testa perché quello che si vede oggi è tutto è tutto esattamente creato appositamente per discreditare sempre più tutto quello che non è esclusivamente materiale e si vive di chimere perché noi stiamo parlando non con uno zappatore ma con una persona che sta al computer non è che fa lo zappatore ma mi spieghi come fa uno a fare lo zappatore nel deserto io sto parlando di una persona che sta da sola nel deserto cioè quella dimensione dell'uomo che sta da sola nel deserto con la sabbia dove non c'è nemmeno l'acqua è la stessa dimensione che viviamo noi in carcere non con sogni di avere un terreno non sto parlando dei sogni di avere un terreno perché sono sogni finché uno non li mette in pratica quando li mette in pratica li mette in pratica con i soldi di papà di mamma oppure in modo temporaneo oppure deve dire grazie a qualcuno quindi io sto parlando di una cosa generica che è ovunque e questo mi dice anziché andare a zappare cosa è ovvio di una ovvietà proprio vabbè sceman anz dai questo patema questo continua a parlare di bellissima esperienza praticamente dice che l'eremita va a fare l'eremita per vivere una bellissima esperienza quando è scritto ovunque che l'esperienza è statica coincide con la sofferenza più totale e non ha nulla a che vedere con l'egoismo ma ahimè di che cosa stiamo parlando perché qui è doveroso lottare è doveroso lottare cioè lottare significa dire che stiamo lottando perché tanto ci sarà sempre una scusa per non lottare veramente perché è tutta una dimensione astratta grazie tecnologia di avermi regalato questo grazie è la fantasia proprio chimere talmente realistiche che sembrano vero meraviglioso allora giovanni dice tu devi restituire qualcosa perché qualcuno è nato per darti e tu devi restituire a queste persone che cosa quello che ti hanno dato io non voglio entrare nel personale perché lasciamo perdere però cercando di costruire un discorso che chiaramente è fatto per andare da nessuna parte comunque il discorso non regge nuovamente perché se uno nasce figlio di uno stupratore oppure nasce abbandonato cercando di generalizzare a cosa a chi deve restituire ma in me deve restituire questo è vero deve restituire ma non siamo fatti di solo pane non siamo fatti di solo carne esiste lo spirito esiste lo spirito restituire è anche creare la pace dentro di te che per le persone più tormentate è una cosa molto difficile si vadi a vedere le immagini delle persone che stanno negli ospedali psichiatrici e ci si domandi guardando loro che è la dimensione più esplicita di come siamo fatti ormai tutti siamo tutti psichiatri solo che lì lo vedi gli vedi la bava e gli altri non li vedi perché stanno attaccati a una o l'altra mammella che quando stacchi la mammella mentale la bava esce inizia a uscire la bava io non so quanto tempo Marcello è stato Giovanni è stato senza senza mammella mentale vediamo e restituire si può fare restituire assolutamente anzi è molto più difficile restituire noi siamo fatti di spirito quando uno prega e fa la preghiera in qualche maniera sta restituendo se poi non credi in queste cose qua vabbè trattasi di ateismo spacciato poi per sistemi giudaici non so di organizzazione sociale di comandamento andiamo avanti dai ci stiamo vicino alla fine io sono un po' stanco ecco quando dico l'energia della parola mi interrompo da solo perché dico l'energia della parola come facciamo ad essere sicuri che esiste che non è una cazzata new age molto semplice è evidente che la parola ha un potere incredibile non a caso l'intelligenza artificiale è creata proprio per creare dei discorsi ripetitivi ossessivi continui eccetera eccetera non è più nemmeno dell'intelligenza artificiale di Giovanni che continua per esempio gli stessi discorsi per i quali di lì che la fanno sentire bene poi la cosa che non si è capita dopo ancora 15 minuti è che io questo audio l'ho fatto paradossalmente per supportare Marcel a seguito di quella di quella cosa che si era creata contro VV eccetera no perché ho detto sono convinto che questi di VV non conoscono alcune parti no cioè ho voluto fare quella era l'intenzione una specie di mediazione tra Marcel e VV al punto di poi far capire alcune cose che VV non aveva capito in maniera tale da farli crollare magari il castello che si erano costruiti questo era l'intento e aprire una breccia perché se qui stiamo a fare la lotta di ego io contro te diciamo vabbè parla Marcel parla di altruismo quando praticamente lui vuole un sosia di se stesso e quindi altro che altruismo cioè nessun principio di comunicazione che devi fare capisci cioè l'intento era quello ti vediamo porca troia praticamente lui dice che il dio che dice all'individuo ai mistici il dio che parla ai mistici non è lo stesso dio suo perché gli dice ai mistici di stare a farsi le pipimentali il libro della bibbia è pieno di profeti che avevano visto in sogno le profezie avevano visto in sogno Gesù avevano visto in sogno la madonna avevano visto in sogno Dio avevano visto in sogno questo e quell'altro Gesù no avevano perché il nuovo testamento ma i profeti hanno parlato con Dio proprio in quella in quella dimensione lì cioè è raro vedere Dio si è presentato con quel vestito con quella faccia erano tutti dimensioni mentali quella di cui è scritta nella bibbia non tutte perché io non conosco bene non saprei additare purtroppo è ignoranza perché è sufficiente prendere il testo della bibbia adesso ricordo Daniele penso che sia un profeta che vedeva in sogno molti altri andremo a vedere magari proseguiremo sta cosa eppure altruismo se lo faccio eppure altruismo veramente e anche mi interesserebbe farlo va bene attenzione dopo 19 minuti di scambio testosterone si entesi effettivamente dopo che è riuscito ad ascoltare quattro frasi di seguito eventualmente sono riuscito e non è stata menzionata qualche trigger word oppure non lo so avrà scorreggiato e avrà avuto un attimo in cui la sua mente si è distratta allora si effettivamente anche questo finalmente gli si apre forse l'eventualità che questo discorso aveva una finalità diversa che andarmi a confrontare con le cazzate di Marcel Minga che sono tutte troiate quello invece che non è troiata l'ho detto in un altro audio che lui non penso che abbia pubblicato che è il fatto che eccetera eccetera attenzione Giovanni dice tu Amerigo non credi nella famiglia nel fare io non sono egoista non voglio dare creare un bambino per dire di essere un uomo maschio virile di aver avuto una famiglia una compagnia che è crudeltà quella dare un bambino che non ha nonni un bambino che non ha zii un bambino che non ha lasciamoli fare veramente a chi ha un minimo di radici noi siamo ultra gender queer dai veramente stiamo dicendo noi dovremmo creare una famiglia dei bambini che crescono con il tablet in mano dicono gli togliamo il tablet che cosa gli diamo io ho 35 anni e non c'ho una lira mi hanno tolto questa per fortuna i redditi di cittadinanza di che cosa stiamo parlando di cosa di quale chimere stiamo parlando sono ipnosi non si sa quale video di youtube avrà visto di persone ma non la famiglia se la crei una famiglia vediamo se riesci io sì starò a guardare sarò felice di vedere che cosa ne uscirà non ho sfiducia ma insomma un po' si dice il mondo finirà ma è Dio in controllo amico le cose vanno fatte con armonia probabilmente si aspetterà e si farà dopo e che ti devo dire arriveranno momenti migliori io non credo si era totalmente sradicati da 300 e anche più anni di lobotomizzazione eliminazione di tutto quello che non è materiale quindi di che cosa vogliamo parlare le famiglie cresciute che cosa con i valori i dogmi della bibbia di 2000 anni fa si riprendiamo e vediamo se riesci a riprenderli vediamo vediamo come si confronta Yahweh con internet le wifi vediamo cosa dice a riguardo perché per nostra sfortuna le ultime comunicazioni che abbiamo ricevuto da Dio e da Gesù quelle ufficiali che stanno nella bibbia sono due mila anni fa dobbiamo rifarci a quelle per vedere che cosa è la tecnologia e se ti rifi a quello ti dici prendi il tablet e buttalo prendi internet e buttalo non puoi lottare con uno strumento marcio affronta il vuoto affronti il deserto e arriverò io a guidarti e non è fare l'eremita a queste trigger work che ti fanno partire come un demento il quale sei ma ti parla lui stacchi tutto e ti parla dici l'ho fatto e mi sono annoiato ti sei annoiato io sto parlando di 10 anni 15 anni quando proprio vai oltre tutto e allora può essere che questo cazzo di Dio ti parla che devo dire possono essere possibilità sono possibilità perlomeno praticabili non fantasiose vediamo magari ci parlerà Dio che ti devo dire tutti facciamo tutti così ma non tutti quelli che perlomeno riescano a capire un minimo quello di cui si sta parlando perché la massa di cui stiamo parlando è gente che lavora non ha nessun interesse a capire queste cose qui va avanti e basta si continua a ripetere la parola Bibbia non si entra affatto nella questione effettiva biblica poi dice fino a oggi non ho trovato un metodo migliore per accudire dei bambini ma che c'hai figli ma di che cazzo stiamo parlando ma non ci accorgiamo che tutti questi discorsi sono figli di una di una fotografia davanti abbiamo il deserto davvero e noi stiamo a parlare di Marcel che non ha cresciuti i suoi bambini Marcel non ha bambini di che cazzo sta parlando più eremita di lui e mi viene a dire a me che fare l'eremita è sbagliato ma di che cazzo cioè stiamo rendendo conto al livello di allucinazione che hanno potuto creare questi cazzi di telefonini e i video i video che uno si spara in faccia e si rivede e crede che è quello che ha fatto il video chi vede cazzo sono gli idoli quelli sono gli idoli dice la legge contro l'idolatria l'idolatria ogni volta che ti fai una foto è la pubblica online e te la riguardi quella è l'idolatria puttana maledetta è Marcel che mi parla adesso che è il miglior modo di crescere un figlio il suo figlio lui non ha figli di che cazzo stiamo parlando forche chimere food for tot cosa sa che significa food for tot cibo per tot tot è il dio del pensiero e delle seghe mentali terribile quello non ha capito proprio che quest'audio non l'ho fatto per Marcel io l'ho fatto per quelli di Vivi e questo continua a dire non perderò tempo a debuncare Zoll figursi mi proponevo di parlare di Zoll a Marcel che è una persona completamente cieca cieca che cosa non è cieca è privilegiata l'ho detto 3 miliardi di volte questo è come è come gli africani cioè Marcel è come gli africani rispetto agli italiani e si permette di giudicare cioè è cresciuto in una famiglia l'ho visto il padre va nelle montagne sarà duro quanto vuole quello va nelle montagne mio padre non va nelle montagne qui crescono chimere parla da un punto di vista privilegiatissimo cioè di che cazzo sta parlando e io dovrei parlare praticamente di Zolla a una persona privilegiata ma c'è scritto veramente nella Bibbia come cazzo si chiama quel passaggio là non parlare ai ricchi i poveri parli noi con i poveri i ricchi con i ricchi non necessariamente di materia e qui ormai stanno tutti a zero di materia ma anche di interiorità cioè è un altro contesto cioè è un altro contesto il deserto però esiste per tutti perché una volta che poi muorono i genitori si sperimentano arriverà quello cioè invece si apriva besce ma no questo continua a dire tu come cresceressi una nuova vita io io sono un paziente psichiatrico come te Marcel quando tu avrai un figlio io starò a vedere come lo crescerai perché a parlare siamo bravi tutti io voglio prima vedere chi cazzo ti sposa poi voglio vedere il figlio come ti nasce e poi voglio vedere come lo educhi e come adatti poi quello che c'è nella Bibbia a questi giorni io ti dico già da adesso che se non hai una tremenda dose di culo e un intuito che soltanto Dio ti potrà dare tu della Bibbia non ci fai un cazzo ti pulisci il culo tu hai bisogno del rapporto diretto con Dio e io di quello sto parlando e lo puoi avere con la Bibbia o senza Bibbia è sufficiente avere non so che è sufficiente prima di tutto devi potertelo permettere io non posso permettermelo non mi posso leggere tra i miliardi di Bibbia e io di crescere un bambino e di trovare una moglie cosa cazzo devo trovare io un sudanese mi sposo un sudanese che me la mette nel culo e partorisco io figuri se una donna sta con me se sta una donna con me la dovrei pecchiare legarla metto incinta veramente mi immagino i bambini ma dico queste cose perché vedo me stesso e sono santo in questo perché vedo me stesso e sono fortunato a vedere me stesso perché è quello che tutte le persone fanno e tu pensi che in una setta religiosa non lo fanno ma per ciò che ho visto io gli avventisti si mettono le mascherine e lui sta parlando di chimere con le chimere siamo tutti bravi ma non si sa di che cazzo stiamo parlando vediamo come li cresce i bambini se a culo ma non esisterà mai non potrà mai avere un figlio una moglie ma glielo auguro ma è come si augura di aver le ali poi vogliamo sognare va bene continuo a dire praticamente che io se avessi un figlio penserei soltanto a me ma probabilmente è vero perché sono onesto il problema è che io non lo farò mai un figlio perché so chi sono e se io fossi dentro Martell non lo farei se io fossi Marcel col suo sistema di pensiero lui parla di altruismo perché Marcel è altruista ma di che cazzo stiamo parlando ma sono parole così ci hanno frusagliate in aria stiamo veramente a inseguire tipo le immagini del mulino bianco cioè il niente compa non è che mi sono sforzato tanto intanto il mio audio è stato chiaramente assorbito dalla maniacalità che tutto ruota intorno a te non ruota tutto intorno a te Marcel io questo audio non l'ho fatto nemmeno per me l'ho fatto perché dentro di me nonostante tutto posso essere anche un idiota ma in 15 anni di idiozie qualche stronzata rispetto a 15 anni fa la so e se c'è uno che ha 15 anni meno di me sta facendo gli stessi errori non sto parlando di Marcel ma magari di qualche coglione di questi di vi per vendetta non tutti non voglio giudicare non giudico questi di vi per vendetta però so che magari dei dodicenni non persone di 30 anni che hanno già la testa sulle spalle le idee ce le hanno chiare ma parlo di dodicenni tredicenni che entrano nei gruppi senza capire un cazzo ecco magari io qualche cosa da darla ce l'ho e non lo dico per egoismo lo dico perché anzi sono proprio le voci che io purtroppo io non riesco a fare l'eremita proprio per questo perché dentro di me c'è la voce che dice cazzo sarai tanto idiota ma qualche cazzo di cosa hai il dovere di dirla a qualcuno che ha orecchie per sentirlo per evitare di fare gli stessi errori che hai fatto tu però tu dici ruota tutto intorno a Marcel hai preso questo come un'accusa a te era una difesa al tuo punto di vista per cercare di indebolire e lo ripeto ancora le eventuali cose date per scontato nel coso di vipervendetta per quanto riguarda i tuoi discorsi sono tutte delle merde delle cazzate e appunto non è che mi sono sforzato di trovare qualcosa di positivo prima di tutto sono delle merde è vero le cazzate ma sono così banali e sceme che però ti offrono ti offrono oltre alla possibilità di confrontarsi e quindi purtroppo ci vuole veramente stomaco perché parlare con l'intelligenza artificiale devi avere proprio il cuore prestante perché ti fa veramente venire da sboccare perché diciamo ma questo qua è un demente però se sai che insomma alla fine si sa chi sia davanti che è una brava persona fa sempre comodo confrontarsi io non mi confronto con molte persone quindi reputo questo in qualche misura una possibilità una cosa con cui sono cresciuto e imparato oltre al fatto della natura in questo momento proprio mi trovo in una piazzola di merda che però per me è natura e perché l'ho trovata copa e street ma anch'io chiudo questo finale dicendo che tu hai detto le cose filosofiche di cui ho parlato prima tu non hai parlato di niente di filosofico tu hai fatto l'intelligenza artificiale ripetendo quei quattro discorsi che sono sempre gli stessi a differenza tua io ho dodici volumi di dicembre del 2021 dodici del 2021 non ti sei degnato di mettere un cazzo di disegno che cazzo è sto suono che io i disegni non li volevo per farli pubblicità ma per creare un contatto con questi poveri tormentati però ci troviamo nell'egoismo perciò quello che è di un altro ce lo metto qui che dobbiamo fare di filosofia e tu non hai detto niente e nemmeno io ma io non è che non l'ho detto perché non c'è l'ho detto perché non è il contesto per dirle bisogna stare seduti con calma prendere i fogli vedere io ho scritto tante cose quando sono stato totalmente senza tecnologia ho fatto sempre dei lavori che hanno bisogno di spiegazioni che purtroppo non riusciamo in una conversazione demenziale come questa figurisi si riesce a fare qualcosa di più però dando qualche stimolo non a te povero Marcel il quale sei un'anima perduta ma a a qualche stronzo di quegli altri che tu magari stai attaccando e poi l'abbiamo detto dobbiamo fare i corsi insieme o no allora ciao chiude dicendo fatti un cane pure tu anziché parlare con l'iai questo non riesce a capire che lo stato penoso in cui ci troviamo è il movente che mi spinge a parlare questo non ha capito il dovere che ha non nei miei confronti nei confronti di tanta gente di dare anche possibilità non è un dovere se se ne accorge bene se non se ne accorge che cazzo dobbiamo fare noi ci abbiamo provato ma la mia intenzione era quella di io se parlo non parlo perché sono irritato e voglio dire la mia ho sofferto sufficientemente anche grazie a questo tipo di mentalità beota ma lo faccio ripeto per altri per altri per altri che sono nella mia stessa situazione possono essere passati da delle determinate cose che io ho passato collaborare significa questo aiutare i più piccoli i più piccoli quelli i più piccoli in un certo età possibilmente non fiche donne e quindi io se mi facessi un cagnolino prima di tutto potrei pure essere felice il problema è che ho un dovere che è quello di condividere le cose che ho capito questo dovere purtroppo non è facile a cancellarsi strilla nell'orecchia e dici ma cazzo apri youtube vedi il mondo e vedi persone che stanno un miliardo di anni luce noi che abbiamo molta roba stiamo qui a soffermarci a chi ce l'ha più lungo in terreni tra l'altro totalmente complementari perché io non ho mai se accuso le tue teorie è soltanto perché per difesa ma sono terreni complementari esistono diversi tipi di persone ognuno può assistere aiutare e condividere con le persone che sono un po' come quelle rispettando anche il fatto che ci sono altri quindi intelligenza artificiale a me non risolve sono chimere pure questi marcelli purtroppo perché sono strade chiuse è evidente che è spacciato cioè mentalmente incapsulato e questo me ne sono accorto diverse volte ci abbiamo tutti i nostri limiti purtroppo vede tutto come accusa e non come possibilità di creare dei gruppi per gruppi diciamo fatti tu il canale youtube io stavo prima di marcelli youtube io sono quello che l'ho scoperto a marcelli l'ho scoperto io dice ah no no io mi sono scoperto l'ho inventato io a marcelli lui fece una pausa da lavoro e gli startazzà il cervello talmente tanto che quello dice vabbè abbiamo una scusa abbiamo trovato un coglione più grande di me posso sfruttarlo come modello per tagliarmi via dal lavoro mi parlava di marx mi parlava e diceva come era bello il comunismo e io sono stato dietro a tutti questi patimenti con la solita certezza che dietro tutte queste cagate c'era qualche possibilità poi purtroppo siamo ai mostri quelli grossi che sono le chimere fotografiche purtroppo se uno non passa veramente dal deserto cioè il tradimento totale di tutti e tutto fin quando ha un supporto fin quando ha la gentilezza e quindi le porte gli si aprono lego non gli si piega lego va piegato se lego non si piega uno non riesce a vedere oltre il proprio naso per piegarti lego devi nessun appiglio niente devi vedere che bussia una porta per dormire e quello ti dice no via e tu ha voglia che li sputi quello al massimo ti picchi come umanità abbiamo davvero bisogno di questo abbiamo proprio veramente bisogno di un nazismo crudele per piegare per piegare il cazzo di Diego e vedere che forse che abbiamo davanti sta combattendo la nostra casa insieme potrebbe però ha tutte le ragioni per quanto riguarda per me la tecnologia è controllata io non ho tutta questa resistenza che ha Giovanni qua a perdersi dietro i beoti Marsello è un beota però ho capito il suo schema ed è uno schema beota stupido da bambino però sono riuscito a intercettare che dietro tutto questo beotismo c'è una ricerca vera veramente genuina figuriamoci gli altri perciò Youtube è una grande chimera internet è una chimera almeno che tu non vuoi farla scimmia io la scimmia non la voglio far finta di lottare con ripetere keyword essere vendibile fanculo vabbè ciao fine messaggio audio di Amerigo Mancini inizia a parlare l'intelligenza artificiale chiamata con il nome in codice Marcel Minga aka Giovanni aka coglione aka beota Amerigo ti ricordi quando fuck you motherfucker fuck you motherfucker I don't give a fuck about my subscribers you moron do you get it you moron I don't give a fuck about the people listening to this fucking bullshit okay but I know that there is someone that has a few neurons che può capire anche se cambio lingua così capisce lo stesso solo con i pochi io penso che i messaggi per dire che ho sentito di pubblicare i tuoi erano messaggi che io sentivo che erano buoni nel senso che su youtube oggi non c'è un cazzo io sono morte tu sei una persona viva io ti rispetto e poi secondo me noi entrambi diciamo la stessa cosa però con linguaggi diversi e noi entrambi parliamo di libertà vabbè tu non lo vuoi vedere così però io ti vedo come una persona libera vabbè poi quanto sono beota ti ricordi quando in macchina cioè abbiamo fatto proprio massimo un chilometro per andare a Genova e già hai cominciato cioè la tua paranoia è partita subito secondo te e infatti poi l'ho messo anche nel video io volevo prendere il controllo della tua vita non solo della macchina e quella era una paranoia caro Amerigo a me mi faceva ridere tutto questo sai quante cose ho dovuto lasciare andare tranquillamente perché perché capisco che tu sei una persona che come mio padre che è paranoico prendi qualsiasi cosa come un attacco io quando ho fatto il video là tuo prima di questo non ho tagliato un cazzo zero solo i spazi morti quando fai ok solo quelli ho tagliato vattela contro là non c'è un cazzo di tagliato però come cazzo faceva a commentare dovevo inserirmi lì nel cazzo del tuo audio no e invece ho capito che anche a quello anche quello l'ho visto come un attacco e questo ho fatto così ho lasciato per intero tutto il tuo pippone che mi ha fatto sbadigliare proprio fino a 17 minuti alla fine quando cominci a parlare del fatto dei figli lì hai avuto qualcosa di bello da dire di interessante non condivido poi ovvio io non ho figli Amerigo lo sappiamo questo e so anche che siamo nella merda però il fatto che stiamo nella merda non mi impedisce di comunque di vedere quale potrebbe essere per esempio una soluzione la soluzione per te è semplicemente fuggire dalla realtà io così lo vedo vabbè tu puoi dire magari fuggendo dalla realtà poi entrando in contatto con se stessi e cazzi vari quanto sono beota lo so lo so Amerigo non sono profondo come te magari hai le idee un po' più chiare si lo so Amerigo che io sono nella merda ho 41 anni e una donna non mi sepia anzi è un miracolo per dire non voglio fare nomi però c'è questa persona che nonostante insomma non è che c'è un grande rapporto però comunque sia mi so mi sopporta mi sopporta e questo non era mai successo successo perché di solito ma non solo le donne proprio anche i maschi queste cose io l'ho detta nel video io dico ai miei subscribers tutte le volte unsubscribe from my fucking channel fuck off non vi voglio io dico la verità qua cioè quello che secondo la mia testa è la verità fammi stoppare così resetto il mio pensiero resetto il mio pensiero ma se si deve resetare perché stessa si non mi sepia nessuno non ho figli sono un'eremita quindi che cazzo tu dici che cazzo parli tu si sono nella merda però voglio così mentalmente avere una specie di obiettivo anche se io quando parlo di difendersi da quello che verrà se uno ci pensa è completamente ridicolo però per me fare l'opposto cioè fuggire da questa realtà e pensare di combattere che ne so come fa Vivi con le bombolette per dire oppure oppure come fai tu scappi nei tuoi mondi scusami se ti ho attaccato ho fatto la bua ho fatto la bua papà Giovanni ti ha fatto male scusami scusami l'americo tanto qualsiasi cosa dico tu la prenderai male però comunque sia in tutto questo pippone che hai fatto di 40 cazzo in culo minuti hai detto qualcosa di bello che è stato questa qua che cazzo di figlio posso crescere io io sono un paziente mentale e hai detto che anch'io lo sono è vero anch'io lo sono io non sarei in grado di fare un bambino perché sono bambino dentro me stesso però ciò non esclude il fatto ciò non mi impedisce di avere un sogno che che cazzo sarà irrealizzabile molto probabilmente irrealizzabile cioè che noi possiamo uscire da questa schiavitù combattendo e poi piano piano ci puliamo la testa dai film porno dalle violenze che abbiamo subito dal crash in modo schifoso e tutto quanto è tutto a un tratto e nasce la famiglia della mulino bianco e nascono bambini sani intelligenti eccetera eccetera questo sarebbe diciamo così la cosa ideale si potrà mai realizzare questo? ovviamente no però che tu mi vuoi anche impedire di sognare questa cosa quale sarebbe l'alternativa mi dico quindi tu dici noi siamo io sinceramente mi dico io sono beota veramente io veramente voglio cercare di capire se ci dobbiamo sparare dobbiamo avere un minimo di speranza cioè che strada vorresti prendere tu sei un paziente mentale quindi cosa stai aspettando che ti vengono ci prendono ci si curano di noi cosa vuoi un minimo combattere il combattimento deve essere mentale non fisico cioè io questi video li faccio perché voglio capire il mio video io non sono un cazzo di youtuber come gli altri io faccio questi video per smuovere le cose e anche se tu mi attacchi per me è benissimo perché in quella merda che mi hai tirato per 47 minuti quanto cazzo è stato comunque c'era un qualcosa che può far nascere qualcosa perché altrimenti c'è la morte intorno a me la morte totale allora ritornando alla cosa dei bambini secondo me la famiglia è importante perché altrimenti escono schizzati di mente come noi Amerigo e io non penso che il resto degli altri oltre a noi non sono sani mentalmente e secondo me come la pianta ha bisogno del suolo della temperatura e cazzi vari per uscire sana per me quel sopporto là è la famiglia e poi oltre alla famiglia c'è la comunità che deve essere sana chi ci controlla in pochi anni praticamente ha distrutto sia la famiglia che la comunità diciamo che per quanto non era paradiso diciamo in questi ultimi anni hanno proprio distrutto tutto per dire quelle signore che abbiamo parlato lì a Portovenere per me io sai quante interviste come quello ho fatto interviste chiacchierare con queste persone anziane perché vedi proprio perché qui in Italia per dire io mi trovo meglio a parlare con persone anziane perché hanno una mentalità che mi piace sono ancora un po' più pulite mentalmente e io con i miei video ho sempre cercato così di prendere queste piccole perle che secondo me sono persone un po' meno fucked up like us e metterle perché comunque li vedo come cose positive ora secondo me noi almeno io la vedo così io non so che cazzo come vedresti tu di risolvere questa situazione come fare in modo che questa pianta cioè l'uomo cresca in un ambiente sano come facciamo a tornare un minimo indietro sono passati pochi anni e hanno fatto una distruzione del genere questi mostri si può fare qualcosa c'è speranza tu vorresti fare qualcosa che cosa io sto sinceramente cercando di capire io da quel minimo di esperienza che ho ricordo che leggendo la bibbia vedevo che tutte le cose che dicevano servono a rafforzare questa famiglia questa comunità così l'essere umano che nasce in quello contesto là non nasce fucked up like the zombies of today oggi poi te li distruggono appena nasce un bambino già lo riempiono che non si può manco di qua che stiamo su China Tube per dire quanto è ridicola la situazione parlo per me cioè nel avere bambini uno uno come me per avere un bambino deve combattere per non fargli mettere quelle cose nel corpo appena nasce cioè io praticamente vorrei con la mia testa così come so fatto vorrei prendere quel bambino una volta che è nato anzi non farlo nemmeno nascere in ospedale farlo nascere qua non voglio nessun cazzo di documento su mio figlio perché non è una bestia che deve avere il tag nell'orecchio etichetta nell'orecchio poi ovviamente dovrei liberarmi anche dei miei documenti che mi trattano come se fosse una bestia oppure che mi fermano e quando cazzo gli pare a loro come se fosse una bestia come un bambino come un prigioniero per tutte queste cose qua io dovrei combattere no? ma io non ce l'ho le palle per combattere però almeno le dico queste cose poi ovviamente prima del bambino devi avere la donna ma come cazzo fai ad avere la donna se sei un prigioniero nello stato in cui mi trovo io adesso come cazzo la sostengo la famiglia io per questo dico che bisogna combattere nel senso bisogna uscire da questa prigione così poi sei libero di fare adesso tu devi chiedere il permesso in comune anche per togliere un filo d'erba lo sai questo no? siamo totalmente schiavi cazzo il mio scopo da quando è nato proprio all'inizio questo canale youtube credo nel 2007 credo è sempre stato sempre stato di risolvere questa cazzo di schiavitù che sentivo anche allora sempre 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 non c'ho nessun ego che cazzo di ego io vedo se tu vedi i miei video parlano sempre della stessa cosa della schiavitù del sistema del fatto che siamo schiavi che cazzo di ego ci può essere a dire una cosa che nessuno te vuole sentire chi cazzo vuole sentire se di che è uno schiavo nessuno e io sono andato avanti anche con due views non me ne fregava niente e adesso questi 450 subscribers che vedi sono tutti zombie quasi tutti ovviamente che vedono per intrattenimento sono morti ok siamo oltre un'ora se Dio vorrà questo messaggio verrà preso bene altrimenti pace l'interliggenza artificiale Giovanni vi saluta grazie a tutti